Tre gol e sorpasso in classifica, Toro, vittoria nel Darby Under-19 vale doppio. Operazione sorpasso riuscita. Il Torino primavera fa su al Darby, batte la Juve per 3-1 e la supera in classifica. Tenendo la scia del Lecce capolista. I Granata festeggiano al termine di un match che hanno saputo gestire meglio degli avversari. Ottimizzando le occasioni a proprio favore e difendendo bene la propria porta. Indirizzano le reti di Weidman, su rigore, ed in i e subito dopo. Prima della chiusura finale di Ansa, per i bianconeri la doccia fredda arriva a inizio ripresa. Da quel momento poco o nulla per ribaltarla. Nonostante le buone individualità in campo, deludono infatti Nunge. Bangula, Mancini e Yildiz. Anche se quest'ultimo sigla il gol della bandiera quasi a tempo scaduto. Seconda gara post-infortunio per Maremovic, alla ricerca della migliore condizione per tornare in seconda squadra. Montero punta Suasa in mezzo, con conseguente esclusione di Doratiotto e Ripani, e in avanti preferisce Angelea Mancini. Chi subentra a gara in corso? Scurto ritrova Antolini, reduce da un lungo stop, e lo schiera subito un po' a sorpresa, e responsabilizza Savva e Dell'Aquila schierando entrambi dal primo minuto. A Vinovo, dove è presente anche Landucci, il vice di Allegri, tira un vento fortissimo. Tanto da spingere con violenza in avvio un tiro dal limite di Weidman sulla traversa. I bianconeri rispondono con Turco, ma la ripartenza del centravanti bianconero si conclude con un errore a tu per tu col portiere. La partita di Turco dura solo un quarto d'ora, l'attaccante viene atterrato su un altro tentativo in contropiede ed è costretto a lasciare il campo a Mancini. Il vento è un fattore con cui convivere per tutto il match, a pagarne soprattutto la costruzione del gioco da ambo le parti. Allora Gnieci prova alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa pulito. Ma palla fuori. Di contro la Juve, ancora in ripartenza, sbaglia con Mancini che non ottimizza una bella cavalcata di Nunge. Che poi pasticcia inizio ripresa con Daffara concedendo un'occasionissima dell'Aquila, palla alta. La partita cambia subito dopo, col Torino due volte a rete nel giro di 4 minuti. Dell'Aquila si fa perdonare guadagnando un penalty al minuto 48, il suo cross porcato di testa da Della Valle viene intercettato con la mano da Moruzzi, braccio staccato, e per l'arbitro non ci sono dubbi. Dalle 11 metri Weidman non sbaglia, ma la formazione di Scurto non sa contente e al 52 raddoppia con Gnie. Lasciato ancora troppo libero di agire dentro l'area di rigore bianconera su un altro calcio d'angolo. Montero prova a inserire forze fresche dalla panchina, ma i bianconeri non danno mai la sensazione di poterla riaprire. Mentre il Toro difende con ordine chiude i conti all'82 con ansa, abile a ribattere a rete una respinta corta di Daffara. Su una punizione di Weidman. Allo scadere Yildiz ci mette la firma con un bel tiro da fuori. Ma è troppo tardi. Festeggia il Toro, con merito.